Ciao, sono Luca Mariotti, presidente della associazione Il Sogno e anche noi siamo molto sensibili a queste tematiche, a tematica Europa, a votare, giovani e quindi abbiamo pensato di organizzare una tre giorni molto vicino alle elezioni in realtà perché sarà il 17, 18, 19 maggio in cui abbiamo pensato di organizzarla con una conferenza di workshop e la proiezione di un film, poi il sabato sera ci sarà anche un momento un po' conviviale con un aperitivo, un concerto e tutto questo appunto per parlare ancora un po' più di Europa per fare chiarezza su quello che si andrà a votare e niente, per sapere un po' di più sull'evento vi invitiamo a seguire la nostra pagina, Facebook, schiacciate il like e a breve nuove news Grazie